Oggi, 12 giugno 2021, insieme a Amba Sicilia, a Siracusa, nel porto, per l'inizio della bellissima manifestazione Guida per Bene, manifestazione e tour sponsorizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Un grande grazie a tutti i volontari della Sicilia e aspettiamo anche tutti gli altri amici dell'Italia, un posto bellissimo, un momento di prevenzione riguardo alla guida. Guida per Bene. Mi raccomando ragazzi, guidate per Bene. Guida per Bene.